Allora Franci, una bella vittoria, oggi è andato tutto bene? Sì, era importante in queste tre partite fare più risultati possibile. Abbiamo fatto una grandissima partita a Bassano, a Como anche abbiamo fatto una grande partita e ci sono mancati un po' di cattiveria, un po' di cattiveria sottoporta che è mancata però oggi abbiamo dimostrato un'altra volta che siamo sul pezzo e che vogliamo stare davanti. In casa si è la sensazione che la vittoria arriverà in qualsiasi momento, almeno dagli spalti, c'è questa consapevolezza maggiore forse? Forse è una cosa mentale, comunque non andiamo in campo con la voglia subito dai primi minuti di attaccare subito la partita quindi di anche mettere pure l'avversario, speriamo che riusciamo in questo, all'inizio è normale che gestiamo più palla anche perché comunque gli avversari si chiedono tanto, però prima o poi arriverà il gol. Se arriva comunque è importante perché ci dà fiducia e quindi poi possiamo fare il secondo e il terzo come oggi. Poi oggi stava sbloccando la partita su un tuo assist per Pesce che si è liberato bene, adesso ti vedremo anche in versione assist. Io ho visto Simo solo, ho messo questa palla forte, poi è stato bravo lui a stopparla a fare la grande girata. Ecco, invece c'è stato, non c'è stato l'assist ma c'è stato un quasi gol perché è un gol che poteva riaprire l'incontro dell'1-3 e l'ha salvato sulla linea con prontezza di riflesso. Sì, come ho detto tu era quasi un gol perché il salvataggio su la linea è una cosa bellissima per un difensore come un gol quindi poi sul 2-0 comunque se prendi gol va in difficoltà, quindi è stata una cosa molto bella, soprattutto molto utile alla squadra. Adesso a Bolzano, che partita ti aspetta? È una partita difficile, loro comunque sono una grande squadra, sicuramente hanno voglia di fare la loro figura quindi andiamo là più concentrati di oggi e vediamo cosa va. Franci, per mettere sempre un po' di pepe sul fallo di mano in area, al settimo minuto che avrebbe regalato il rigore per noi, qualche fantasma? Ma queste cose sinceramente non dobbiamo andare oltre a queste cose perché comunque dobbiamo essere più forti di questo.